L'amore, l'amore L'amore è un fond de bohème Il n'ha jamais, jamais connu de loire Si tu ne m'aime pas, je t'aime E si je t'aime, prends garde à toi Graditissima premiere direi, una vera e propria premiere per lo Stadio Franchi Questo connubio fra calcio e balletto Due anni che volevamo fare uno spettacolo di danza allo stadio Per tante ragioni ci siamo riusciti Quest'anno anche lì, nel momento in cui si è iniziato Maggio Danza Con la Fiorentina ci siamo rivisti E' rivenuta questa voglia E si è deciso di partire a fare questa operazione Il loro entusiasmo sapranno trasmettere qualcosa di diverso Da una partita di calcio come la nostra Durante quel servizio fotografico ci siamo divertiti molto E ne ho avuto la conferma che non sono un gran ballerino Quello sicuro Perché molte volte, a discapito della ballerina qui presente Molte volte certe cose sembrano facili Ho avuto un avvicinamento alla danza Guardando una trasmissione televisiva Sembrano cose facili Invece poi quando tocchi con realtà e con mano Un qualcosa che non è tuo Capisci che sei molto limitato È un grandissimo avvenimento riuscire a combinare due entità così distanti Ma che hanno in fondo così tanto punti in comune La passione, l'energia L'arrivare a un punto Una data in cui succede lo spettacolo o la partita Per cui diciamo che è un avvenimento inedito E sono molto contento di essere qui Un'avventura quella che ha portato alla nascita della serata Omaggio in viola Che parte da lontano, come avete sentito E che ha avuto il suo gala nel 7 giugno In un contesto unico E mai presentato per un balletto Uno stadio Che è anche un'opera d'arte Come il Franchi di Firenze Una sfida, quella di Magda e della Fiorentina Che ha portato al coinvolgimento di due settori Che apparentemente possono avere poco in comune Come il calcio e il balletto E che invece si sono intersecati in diversi punti Un viaggio che è passato attraverso prove, allenamenti E collaborazioni come quella Con alcuni atleti del settore giovanile viola Che hanno contribuito ad animare le scene Dell'atto conclusivo della serata O la presenza di un flash mob Nell'intervallo di Fiorentina Torino Da parte dei ballerini Per invitare i tifosi allo spettacolo Più che raffigurare una partita di calcio Da parte mia c'è stata E sto cercando di mettere in scena L'emozione che può avere Sia un calciatore che uno spettatore Eccovi allora alcuni spunti della serata Del 7 giugno Introdotti dalle parole Della splendida Eleonora Bagnato Che ha danzato come special guest Sul tema di Medea Coreografia di David Bombana Sì, in uno stadio è la prima volta Quindi emozionante perché ho visto qua l'Italia con mio marito Quindi adesso tocca a me Quale momento vive secondo te la danza in Italia? Beh è un momento difficile Infatti sono qui anche per questo Per aiutare il Maggio Fiorentino Un amico, un coreografo Una persona di cuore Che ha lavorato con me nel video di Vasco Rossi E tante altre occasioni Tra l'altro ha creato questo passo a due Questo balletto intero al Teatro Petruzzelli di Bari con me E danzerò un pezzo di Davide Bombana Il nuovo direttore del Maggio E conoscerò Sebastian Colò Un ballerino internazionale Beh è un balletto molto drammatico Soprattutto che in quel periodo ero incinta di quattro mesi Quindi è un bel ricordo Con la mia creatura già E una creazione che è andata benissimo E spero di tornare qui a Firenze Con tutto il balletto di Medea Si è passati dalla passionalità poi di Carmen All'amore non consumato nel passo a due Prelude a pre-lami di Dufon Sempre di Bombana E infine con la spumeggiante chiusura A ritmo di Bob Marley Sui passi disegnati da Alessandro Biconzetti Per il suo Fair Play Ecco una sintesi ampia della serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti